Messi, cosa fa per De Paul dal campo, la confessione di Tini. Leo Messi e Rodrigo De Paul, un'amicizia vera che va oltre il pallone. A farlo sapere Tini Stoessel. La cantante e attrice conosciuta in Italia per la serie TV Violetta che da quasi un anno è legata al centrocampista dell'Atletico Madrid. La Pulce è un amico presente e attento per il collega, dentro e fuori dal campo. Conosco Leo, è un amore. È molto legato a Rodrigo. Di recente siamo stati allo stesso compleanno. È stato molto divertente, ha dichiarato l'artista in un'intervista rilasciata a Star+. Tini ha così smentito i gossip circa un'antipatia delle wags argentine nei suoi confronti, nonostante la burra scorsa rottura tra De Paul e l'ex compagna Camila Ommas. La Stoessel è stata accolta bene da Antonella Rocuzzo e le altre mogli dei campioni del mondo. La fidanzata di De Paul parla di Messi o conosciuto Messi qualche tempo fa. Uno dei suoi figli o dei suoi nipoti, non ricordo bene, voleva venire ad un mio spettacolo. Leo è un ragazzo molto rispettoso e anche Antonella Rocuzzo lo è, ha aggiunto Tini. Quest'ultima ha poi risposto a tutti quelli che hanno criticato la sua love story con De Paul sbocciata. A quanto pare, ha poche settimane dalla nascita del secondo figlio del calciatore, il piccolo Bautista. Frutto del lungo amore con Camila, è nato nell'estate 2021. Molte volte le persone parlano della propria tristezza e frustrazione e la scaricano su un'altra persona per far star male. Bisogna vedere se stessi, io dormo pacificamente ogni notte. Bisogna lasciare che gli invidiosi vadano all'inferno. Virgola.